Dov'è la parcheggio? Dov'è la parcheggia? La parcheggia? Dai qui Ok e adesso Vammi ad andare Subito Ok Tenete Voi sapete una cosa in realtà In realtà i lavori Cioè sono Tu diventi volontario Per fare alcuni lavori Capito? Così funziona Ok Che faccio con le facili? Due cioccolato Due cioccolato e due vaniglia? E una vaniglia intendo Ok Due cioccolato E un altro Solo vaniglia Dopo Ha finito Ok Mi sono quasi Ok Ok Questo è Tranne Non faccio solo Cioè lavori Ma faccio anche cose divertenti Ok Quale che è lo che è fatto Facebook Fraggio e fraggo le cioccolato E altro Ok Fraggio e fraggola e cioccolato due fragola ok fragola e fragola calmo a vero cioccolato di sprinco carco il giusto andiamo fai questo cioccolato lo devo solo fare un po in fretta ok giro cari 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 la band retto sprinco al scopalino devo solo andare e spero cori cari 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 fatto ok vuoto frago che sono in realtà faccio solo fragola e la salsa e cioccolato gino tranni inoltre va tutto bene con voi? perché inoltre io vorrei fare un react video io lo farò con alcuni video guarderò guarderò le cose vabbè sei gelato come il film dei Minions con quel cattivo o con i Minions viola e dopo loro hanno visto il camion di via e hanno detto gelato cioccolato cioccolato ma smettano davvero mi servono dei soldi in questo gioco poi mi pagherò le mie tasse e le tracce di città e tranne costava così tanto 750 euro per quelle cavo ma forse nemmeno lo so vabbè lascia ok prego ok no ma perché adesso devo rifare tutto qui ok lo metto qui 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 Grazie.